Vincenzo Picardi, otto incontri, otto vittorie, la strada verso il mondiale sembra spianata. Sì, abbiamo dato il massimo già dall'inizio fino ad adesso, ora cercherò sicuramente di portare a casa quest'altra vittoria, dando sempre il massimo, non sottovalutando l'avversario, cercheremo di arrivare a giochi del Mediterraneo in un'ottima condizione. Anche perché comunque l'obiettivo principale sono i mondiali che si terranno qui a Milano. Sì, il fatto che sentirsi numero uno è un buon elemento che gioca a favore, però bisogna metterlo in atto, perché comunque bisogna dimostrarlo che siamo i primi. Sicuramente cercherò di dare il massimo fino alla fine, perché è il mio obiettivo di portare a casa questa vittoria per i mondiali. Ma non lo conosco perché anche il nome non è un nome che ho sentito, però comunque giocherò sulla mia tecnica, cercherò di fare il mio pugilato pulito senza mettermi troppo a scambiare e cercherò di mettere i colpi più puliti. Sicuramente tanto, perché comunque abbiamo lavorato tantissimo, siamo stati messi sotto pressione, perché comunque abbiamo avuto dei sparring di alto livello. Sicuramente questa preparazione la dobbiamo rifinire proprio con questo dual match. Grazie.